Ben trovate a tutti gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con la pandemia, registrando anzitutto il decesso di una 68enne di Grotta Zolina con patologie pregresse morto all'ospedale di Ancona. In aumento il numero dei nuovi positivi che nelle ultime 24 ore sono stati 169, di cui 52 nella provincia di Pesaro Urbino, 50 nel Maceratese, 35 in provincia di Ancona, 15 ad Ascoli Piceno e 10 a Fermo. In leggera discesa invece il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti che oggi è di 79,39, considerato l'alto numero di tamponi analizzati. Netto aumento invece dei ricoverati complessivi che passano da 79 ad 87, mentre i degenti nelle terapie intensive sono attualmente 19. La Surmar che ha reso noto ieri sera la programmazione delle località dove saranno operativi i camper vaccinali in tutta la regione nel mese di settembre. Giorno per giorno il calendario è suddiviso per comune appartenente all'area vasta di riferimento con le relative fasce orarie. Solo a titolo esemplificativo domani, giovedì 2 settembre, i camper saranno a Fossombrone e Castelfidardo nell'area Visso, Ussita Castel Sant'Angelo sul Nera, Fermo ed Acquaviva Picena. Solo domenica è giorno di stop. E Marche apri pista con le cosiddette scuole sentinella per i test salivari. Ieri il via libera dalla conferenza Stato-Regioni. Sentiamo. La conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano per il monitoraggio della circolazione del Covid che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per la nostra regione che è stata sin da subito alla testa di questa battaglia, spiegano l'assessore all'istruzione Giorgio Latini e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, si tratta di una buona notizia che in divenire potrà essere un'ottima notizia. Il documento mette in campo un programma di testing per monitorare e ridurre la diffusione del virus e limitare isolamenti e quarantene, cercando così di evitare il ritorno in didattica a distanza. Più nel dettaglio, individua a scuole sentinella che consentano una campionatura rappresentativa della popolazione scolastica e soprattutto chiede un approfondimento al Ministero della Salute per validare i test salivari molecolari ai fini del rilascio del Green Pass. Dai primi incontri avuti con alcuni dirigenti scolastici nelle Marche, proseguono gli assessori Latini e Saltamartini, stiamo individuando le scuole sentinella e concordando le procedure di raccolta dei test ogni 15 giorni, che come previsto dal test approvato, possono essere anche svolte dai genitori o nelle farmacie, previ accordo. Si tratta di passaggi organizzativi che non creeranno problemi. L'importante adesso è che il Ministero riconosca l'indirizzo dato in conferenza Stato-Regioni e approvi nuovi criteri per il rilascio del Green Pass. Le Marche sono state apripista, hanno per prime chiesto di valutare la possibilità dei tamponi salivari come strumento efficace di gestione della pandemia, valutando anche l'estensione di questa modalità di screening agli impianti sportivi. E veniamo ora ad un'ampia pagina dedicata alla crona, che era stata rubata poche ore prima a Falconara Marittima, la vettura sulla quale viaggiava un 17enne di Cerignola con precedenti per reati contro il patrimonio, arrestato dalla polstrada di Vasto lungo l'A14 all'altezza del casello di San Severo. Il giovane non si è fermato all'alte degli agenti, ma poi ha abbandonato il mezzo tentando di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e poi bloccato. All'interno dell'auto sono stati ritrovati cacciaviti di varie dimensioni, una tenaglia, un'asta di ferro e due centraline. Anche nelle Marche i monopattini sono un po' al centro delle attenzioni. Un incidente è avvenuto ad Ancona in via Giordano Bruno, dove un 46enne è finito dentro ad una buca riportando una seria lesione ad un ginocchio. Sul posto è intervenuta la croce gialla. Ricordiamo che a Sesto San Giovanni il sindaco della cittadina del Milanese ha emesso un'ordinanza che ha introdotto l'obbligatorietà del casco e la sensibile riduzione dei limiti di velocità. È ricoverata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità l'anziana donna intossicata dal fumo acre di un incendio. Il rogo è avvenuto nella sua abitazione di Corso Amendola ad Ancona e sarebbe stato provocato da un asciugacapelli incautamente lasciato acceso sopra ad un materasso in lattice che ha immediatamente preso fuoco. Piuttosto complesso l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare delle speciali maschere collegate ad una bombola di ossigeno per riuscire ad entrare nell'appartamento. Oliveti, vigneti e frutteti hanno fortemente risentito della grandine caduta ieri, in particolare nelle province di Ancone e Macerata. Nella zona di Cingoli un centinaio di etteri di vigna sono stati letteralmente rasi al suolo. Da anni sono stati segnalati alla col diretti anche a Mazzangrugno, Filotrano, Agugliano, Sarnano, Gualdo e Pena San Giovanni. Dopo la siccità insomma un altro evento atmosferico estremo che sta turbando il lavoro degli agricoltori marchigiani. E cambiamo ora decisamente argomento. Sono tornate le fiere in presenza e 25 realtà marchigiane dell'agroalimentare sono al Cibus di Parma che sta seguendo per noi Manolita Scocco. Vediamo. 25 imprese marchigiane che ripartono da Cibus, la prima fiera in presenza post pandemia tutta dedicata alle eccellenze dell'agroalimentare. A Parma fino al 3 settembre oltre 2000 aziende presentano prodotti e novità in uno spazio ridotto al 25% dove business e sicurezza la fanno da padrone. Un segnale di ripresa forte e concreto che per le marche, regione, camera di commercio unica vuol dire anche fare il punto sull'agroalimentare come fattore di attrattività, identità, sviluppo. Questo anche il senso della conferenza stampa organizzata con l'azienda speciale Linfa presieduta da Simone Mariani e con la partecipazione del presidente dell'ente camerale Sabatini, del vicepresidente della regione Marche Mirco Carloni. In fiera tra le 25 aziende marchigiane, 8 arrivano dalla provincia di Pesaro Urbino, 7 da quella di Macerata, 5 Ascoli, 3 Ancona, 2 Fermo. Un granello di sabbia rispetto alle 27.157 imprese attive del settore, capaci nel 2020, nonostante tutto, di esportare prodotti per un valore complessivo di 409,8 milioni di euro, con una quota export che, pur perdendo il 3%, rappresenta comunque a livello regionale il comparto migliore come trend nell'ultimo periodo. In evoluzione la situazione dei profughi afghani nelle Marche. 20 sono in partenza ed altrettanti in arrivo a fornire gli aggiornamenti e l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi. I primi 20 profughi afghani ospitati dal 24 agosto nel Covid Hotel di Gabicce Mare spiega sono risultati tutti negativi al test anti-Covid e domani verranno accompagnati su disposizioni del Ministero della Difesa nei punti di accoglienza gestiti dal Ministero dell'Interno e dislocati sul territorio regionale. Nel frattempo lo stesso Ministero ha già annunciato l'arrivo nelle Marche di altri 20 profughi afghani provenienti da Avezzano. Agabicce dovranno, esattamente come i loro predecessori, completare il periodo di quarantena per poi tornare nei luoghi predisposti. La Regione, come è doveroso in questo drammatico momento, si sta adoperando al meglio per fornire tutta l'assistenza necessaria a queste persone. I 20 nuovi profughi arrivati riceveranno subito la somministrazione del vaccino. Si è insediata stamattina nella veste di nuovo direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibilini, la dottoressa Maria Laura Talamè, già funzionare dell'ente da oltre 20 anni. Una nomina che va nella direzione della continuità, visto che nell'ultimo anno la dottoressa ha rivestito, peraltro, egregiamente il medesimo ruolo come facente funzione, forte anche della sua lunga esperienza lavorativa all'interno del Parco e della sua eccellente conoscenza del territorio. Ha sottolineato il presidente dell'ente, Andreas Paterna, laureata in Biologia, la Talamè gestirà una struttura che impiega ad oggi una ventina di dipendenti e diversi collaboratori e che ha da poco trasferito i suoi uffici in una nuova sede, seppur temporanea, sempre nel comune di Visso. Da quasi mezzo secolo il Forum di Cernobbio è forse l'appuntamento più importante di confronto in Italia sui temi dell'economia e della finanza. Ebbene da venerdì a domenica la mole vanvitelliana di Ancona ospiterà uno dei tre hub in Italia connessi ad altri poli in giro per il mondo. Un'opportunità quindi a suo modo storica, colta al volo da un team di imprenditori, dalla Confapi, dall'Università Politecnica delle Marche, dal Banco Marchigiano, dal Comune d'Orico per l'organizzazione di tipicità. Vediamo il servizio. Una grande opportunità, non ci sono altri termini, per Ancona ma soprattutto per le Marche. Da venerdì a domenica infatti la mole vanvitelliana sarà parte attiva del Forum di The European House Ambrosetti, iconico appuntamento di economia, finanza e conoscenza che da 48 anni si tiene a Cernobbio. Di altissimo profilo il novero dei personaggi che porteranno il loro prezioso contributo in una tre giorni intensissima, con un momento tutto dedicato alla nostra regione, la tavola rotonda di sabato alle 11 sul tema la dimensione aziendale e la nuova competitività. L'iniziativa è stata presentata oggi presso la sede di Civitanova del Banco Marchigiano, partner principale dell'evento voluto da un team composto anche da Confapi Ancona, Università Politecnica delle Marche, M-Data, Inno Living, Loacker, MedSystems, con il supporto dell'amministrazione comunale dorica rappresentata dall'assessore alla cultura Paolo Marasca e l'affidabilità organizzativa certificata da tempo di tipicità. Un villaggio insomma dell'economia e della conoscenza come è stato legittimamente definito, più in generale una vetrina prestigiosissima per tutta la classe dirigente marchigiana in un momento che vuole essere di ripresa, dopo mesi davvero durissimi. Una sfida colta al volo dal direttore generale di Banco Marchigiano Marco Moreschi. Direttore diciamo che questa è un'opportunità enorme per le Marche e per il territorio che voi avete cercato di cavalcare, state cercando chiaramente di cavalcare tra l'altro con un parterre de roi davvero. Ma sì, come sapete io più volte ho sostenuto che una banca che voglia definirsi a vocazione territoriale debba oltre che occuparsi dell'intermediazione del credito, che è il lavoro precipuo diciamo, anche della valorizzazione del territorio. Questo, come diceva giustamente lei, è una grandissima occasione finalizzata alla valorizzazione di quelle che sono le eccellenze imprenditoriali non solo del territorio. Siamo sostenuti, circondati, supportati da davvero un parterre de roi, quindi direi che grazie al lavoro di questi mesi abbiamo veramente le condizioni auspicabili per una riuscita davvero straordinaria dell'evento. Come siete riusciti a portare veramente nomi di altissimo profilo nelle marche oppure collegati ovviamente? Ma io guardi, penso che semplicemente raccogliamo un po' il frutto del lavoro incessante di questi anni e probabilmente un premio alla serietà, alla trasparenza, alla volontà di creare relazioni e devo dire che questo è un esempio in cui quando abbiamo chiamato il territorio marchigiano ha davvero risposto. Questa, devo dire, è anche una grande gratificazione per una banca come il Banco Marchigiano. Tre giorni molto intensi riuscirebbe a sintetizzarli e a, diciamo così, isolare qualche momento particolarmente significativo a suo avviso? Ai giorni sono intensissimi, i lavori saranno pienissimi, questo grazie ovviamente alla storia, alle relazioni, alle competenze di Ambrosetti che effettivamente riesce ogni anno coinvolgere i relatori di primissimo piano. Diciamo che i tre giorni sono sostanzialmente suddivisi con Mondo Europa Italia, venerdì, sabato e domenica. All'interno di questi macroambienti verranno poi declinati i principali argomenti di attualità, per esempio quello dell'emergenza Covid con Fauci in collegamento dall'America, capi di Stato che ci racconteranno la situazione sotto il profilo economico per arrivare ad una giornata interamente dedicata all'Italia, per esempio con il prossimo PNR. Quindi direi sì, un'agenda fittissima, ma che io mi auguro, ma devo dire non ho dubbi, sia anche ricca di spunti per i nostri imprenditori che potranno portarsi a casa già delle idee per mettersi in moto e cogliere le opportunità che da quest'autunno si creeranno. Ci sarà anche il drama dell'Afghanistan nella 31esima edizione del Festival dell'Umorismo di Tolentino. In occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Biennale dell'arte umoristica intende dedicare un momento di riflessione al coraggio delle donne islamiche. In particolare, una parte consistente del percorso sarà dedicata alla street artist afghana Shamsia Hassani, 23 anni, graffista, le cui opere sono rimbalzate sui social in questi giorni con milioni di condivisioni. Le sue donne, eleganti e gentili, sono circondate spesso dalle macerie e dal terrore, hanno occhi bassi, senza labbra ed immerse nei loro pensieri. Sono stati presentati appesa dei weekend gastronomici d'autunno, ormai tradizionale appuntamento organizzato dalla Confcommercio Marche Nord. Sentiamo Roberta Rotelli. Presentata presso la nuova sede di Riviera Banca a Pesaro, l'iniziativa Weekend Gastronomici d'autunno 2021, che quest'anno celebra i suoi 38 anni di attività. Un itinerario nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Monte Feltro, alla scoperta di eccellenze enogastronomiche del territorio e dei borghi più suggestivi della regione Marche. Il binomio gastronomia e turismo si rivela vincente per rilanciare un settore, quello della ristorazione, che nell'ultimo anno è stato messo a dura prova, dall'emergenza pandemica e dalle tante restrizioni. Una scommessa ambiziosa, quella dei 45 ristoranti che a partire dal 18 settembre partecipano all'iniziativa e che si appoggiano alla Confcommercio, per ripartire dalla cultura culinaria del territorio e riavviare l'economia. Sì, l'iniziativa nasce appunto 38 anni fa. La volontà era quella di elevare la qualità della ristorazione nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino perché appunto i weekend gastronomici sono riservati ai locali dell'entroterra. In questi 38 anni ovviamente la ristorazione è cambiata molto, c'è un livello qualitativo molto elevato e soprattutto c'è una grande utilizzazione dei prodotti del territorio, la valorizzazione delle ricette tipiche della nostra provincia e quindi in questo senso i weekend gastronomici hanno mantenuto inalterata la loro importanza, il loro gradimento da parte dei consumatori. D'altra parte il fatto che una manifestazione si svolge ininterrottamente, l'edizione primaverile e un'edizione autunnale per 38 anni sta a significare insomma il buon successo e il gradimento della manifestazione. Oggi siamo pieno di una crisi derivante dal Covid, dalla pandemia, i ristoranti sono 45 quelli che partecipano, inferiori rispetto a quelli che partecipavano alle edizioni precedenti ma questo è dovuto all'incertezza, alle difficoltà anche di gestire la ristorazione con le restrizioni imposte dalle autorità sanitarie, dalle limitazioni dei posti a tavola, dal Green Pass. Però 45 ristoranti vogliono ripartire grazie alla Confcommercio e grazie ai weekend gastronomici. Questa iniziativa quindi un trampolino di lancio sia per il settore enogastronomico che per il turismo? Assolutamente sì, gli itinerari gastronomici nell'entroterra della provincia di Pese e Rubino sono anche uno strumento per promuovere da punto di vista turistico le nostre località, i nostri borghi e questo lo facciamo all'interno dell'itinerario della bellezza che è l'altro grande progetto di Confcommercio che coinvolge 13 comuni e che ha sempre come partner Rivera Banca e Gruppo Era. Se potesse lanciare un messaggio a coloro che ancora non conoscono questa iniziativa, che cosa gli direbbe? Ma che è un'iniziativa straordinaria perché i ristoranti propongono dei menu veramente eccezionali ad un prezzo assolutamente promozionale. Quest'anno il massimo è 23 euro ma con antipasti, primi, secondi, contorno, dolce, caffè ma con prodotti di alta qualità, prodotti tipici. Soprattutto ricordo ai consumatori che c'è estrema chiarezza nei loro confronti perché nella guida, nei libretti menu è stabilito il menu, il prezzo, l'abbinamento con i vini, il costo dei vini, insomma grande chiarezza e trasparenza nei confronti dei consumatori. E siamo allo sport e la notizia del giorno, peraltro attesa è l'ufficializzazione dell'ingresso nell'ascolicalcio della North Sixth Group che va ad affiancare quindi Massimo Pulcinelli e la Bricofer S.p.a. Secondo una nota del club bianconero la società americana avrà un ruolo strategico nelle relazioni internazionali ed opererà in sinergia con il CDA. Si uniscono anche come proprietari una molteplicità di investitori internazionali. La North Sixth Group è una family office, l'azienda ha partecipazioni totalitarie di minoranze in una molteplicità di investimenti in vari settori, tutti accomunati da una visione comune, la passione, lo scopo ed il progresso. Vedremo dunque quali e di quale tipo saranno gli sviluppi di una partnership comunque prestigiosa. E domani Gabriele Gravina, presidente nazionale, sarà ad Ancona presso la sede regionale del Comitato Marche della Lega Dilettanti della Federcalcio. Nella prima parte della mattinata incontrerà Ivo Panichi e gli altri componenti del direttivo. Poi nella sala riunioni si trarà un incontro con tutte le componenti del calcio marchigiano e dell'informazione sportiva. Vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 2 settembre. Amici trebi meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che nel complesso sarà ancora bella in gran parte d'Italia, però questa zona di bassa pressione è presente sulle Baleari, piano piano si muove verso il nostro paese portando già un po' di nuvole e qualche pievasco sulle zone più occidentali. Controlliamo infatti la nuvolosità prevista sull'Italia, ecco queste nuvole inizialmente estratte di velature ma col passare dell'ora è nuvolosità sempre più estese e compatta principalmente sulla Sardegna ma come vedete comincia a farsi vedere qualche nuvolamento sotto forma ripeto di velatura anche su versanti tirenico e su buona parte del centro nord. Come precipitazioni però è la Sardegna per il momento che rischia già qualche piovasco però fenomeni per lo più di breve durata e isolati. Quindi in definitiva ci attendo in giovedì, bello in gran parte d'Italia. Qualche velature abbiamo detto al centro nord ma soprattutto nubi in aumento in Sardegna a nord ovest e in Sardegna anche se qua non l'abbiamo indicato col passare delle ore arriverà appunto anche qualche breve piovasco. Temperature diurne sempre estive perché tocchiamo ancora i 30 gradi però al primo mattino aria frizzantina al centro nord. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche poi verso il weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. E chiudiamo con un'ultima notizia. Sarà intitolato a Gianluca Mattioli il campo da basket di Villa San Martino di Pesaro. In attesa che venga completato il restyling la Giunta ha infatti deciso di dedicare all'arbitro scomparso nel 2017 uno dei playground più storici della città. Mattioli nella sua lunga e splendida carriera ha diretto complessivamente 685 partite, molte delle quali in Serie A ed in Eurolega. Indimenticabili aggiungiamo noi la sua serietà ed il suo sorriso. È tutto con il nostro telegiornale. Appuntamento a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.